Ragazzi, mi raccomando, bisogna tenere la squadra corta. Vedete, nel gioco ci vuole leggerezza. A te farebbe bene, sorge sana. Anche al mister è un po' pesantino oggi. Nelle ripartenze, ad esempio, giocatela di prima. E quando saltate l'uomo dovete essere più... più... effervecenti, avete capito? Sì, mister! Lete e sorge sana, le acque del Napoli. Ti fa bene! Ben merito! Grazie a tutti!